E' sul punto 5 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera che cita atti preliminari all'adozione di accordo di programma per l'attuazione del progetto Polo Scolastico Incolmata, atto di indirizzo, che la consigliera Silvia Garibaldi esce dall'aula e tempestivamente ci invia un comunicato stampa, invia a tutti ovviamente un comunicato stampa. Consigliera Garibaldi, perché esce dall'aula su questo argomento visto che di scuole si era già parlato e lei ha manifestato una sua approvazione? Perché secondo me in questa pratica si scrive Polo Scolastico ma in realtà si legge Depuratore. E' una pratica che così come viene portata a mio parere è una pratica pleonastica di nessuna utilità e che mi pare strano che la giunta, che di solito evita il più possibile di consultare se non necessario il Consiglio Comunale, questa giunta porti in Consiglio Comunale. A mio parere è un modo per distrarre l'attenzione da ciò che ci sarebbe sotto questo polo scolastico ed è quello che ha determinato la mia contrarietà a questo atto di indirizzo. Un atto di indirizzo col quale secondo me si cerca più che lavallo a un polo scolastico in colmata, la vallo alla collocazione del depuratore in colmata con la scusa che sopra ci si farà un polo scolastico. Io sono favorevole a fare un polo scolastico a chiave in posizione adeguata e forse non so se la collocazione di colmata sarebbe la migliore ma di sicuro la collocazione in colmata senza depuratore si potrebbe discutere ma con sotto un depuratore io non la trovo neanche adeguata per i ragazzi. Di depuratore si è parlato anche in questi ultimi giorni per la verità ieri e mi pare che anche lì lei abbia preso una posizione che non è chiaramente nuova. Il fatto della scuola alleggerisce il concetto secondo lei? Secondo me non lo alleggerisce ma da parte dell'amministrazione c'è un tentativo di farlo alleggerire. Tra l'altro la scuola di un polo scolastico e di istituti scolastici adeguati se ne ha bisogno immediatamente quindi avrei pensato più soluzioni anche non di un polo ma di più poli ma fatti bene per esempio in Palazzo Ferden avremmo avuto un palazzo adeguato che so per il caboto e l'immemoria dei morti per la patria o comunque sarebbe stato già pronto mentre invece qua comunque si parla di futuro remoto perché come minimo cinque anni di lavori passeranno e quindi per cinque anni ancora le scuole a Chiavari saranno in condizione precaria soprattutto se poi si penserà un po' allo scolastico vorrà dire che in questi cinque anni credo che le soluzioni tampone saranno sempre comunque non adeguate ad avere uno spazio per lo studio fatto bene. I consigli comunali sono sempre molto movimentati che percorso è il suo nell'ambito di questi consigli? Spesse volte dobbiamo, io in particolare ma anche gli altri consiglieri dobbiamo imporci per cercare di avere un minimo di trattamento adeguato al rispetto della democrazia e dell'esercizio della democrazia da parte dei consiglieri. Spesso veniamo accusati di non avere idee ma perché tante volte non ce le lasciano esprimere o di non essere documentati ma perché alle nostre interrogazioni invece di rispondere poi rispondono piccati invece di rispondere per le vie istituzionali rispondono piccati sui giornali citando documenti che a noi non sono arrivati e che quindi non abbiamo potuto esaminare prima di fare le nostre rimostranze. Questo tipo di contestazione mi pare che sia nato sul concetto delle commissioni. Certo perché anche l'ultima convocazione di commissioni che è stata fatta su nostra richiesta per approfondire tecnicamente la digitalizzazione dell'aula e consigliare un progetto diciamo da 53 mila euro si devono fare disquisizioni tecniche quindi anche con un certo tempo senza limitazioni ora non è che si pretendeva di stare lì 10 giorni però di poter parlare senza limitazioni e senza limitazioni anche di numero di interventi mentre invece la novità è stata che il presidente di commissione ha tentato di introdurre una disciplina che è restrittiva pari a quella del consiglio comunale che è una sede ben diversa di discussione. Perché avete usato il termine imbavagliati? Imbavagliati perché le commissioni sono un luogo per approfondimento per poter chiedere anche ai tecnici informazioni ma se sei costretto a fare solo un intervento e solo di 5 minuti questo approfondimento sfuma. Un'altra accusa che spesso ci viene mossa è di essere contro a prescindere anche questa la respingo al mittente perché proprio oggi ho votato a favore la pratica precedente a quella del polo scolastico che riguarda l'ampiamento delle mazzini e quindi una variazione al PUC per permettere questo ampliamento per avere posti in più negli asili e questo era in linea con il mio programma elettorale per cui l'ho votato a favore dopo aver verificato che la variazione al PUC si limitasse a questa esigenza.